ripeta con me io non sono vecchia cos'è questa roba ai 50 anni amore siamo sotto tiro io non sono vecchia dai sì che ci riesce io non sono vecchia sai che non lo facevo così in là con gli anni come la scusi ma se io e te ci vedessimo anche una volta senza trapano e perché agli uomini si fa prima e i tuoi occhi sono pari abbagliati io ci sono già avanti ti presento mia moglie ma ci saranno degli altri tagli al personale siamo tutti appesi a un filo poi il mio più resistente del vostro ma questo è un altro discorso io presa sei quante ne ho salvate come te ma va a cagare cosa stai facendo io non siamo nella merda mi licenziano o cazzo adesso adesso ci pensi tu a mantenerci io dentro qua soppoco lo vedi che non volo vuoi che lo faccia volare ma dove scappi ma che cosa vuoi da me così siamo pari così siamo pari ora allora allora ciao Grazie a tutti